ciao eccoci qui ma ciao si sono tornata non me ne sono mai andata a dire il vero come state come va come avete passato le ferie siete andati in ferie se ancora il tempo li da voi vi state riposando vi siete riposati di riposerete raccontatemi tutto perché no allora e finalmente ci si rincontra come stanno andando le cose c'è qualche miglioramento raccontatemi tutto voglio sapere tutto perché sono stata lontano da voi per del tempo anche se non me ne sono mai andata vi ho sempre tenuto d'occhio ho fatto una pausa anche da instagram perché dovevo staccare però non ho mai staccato di tutto perché io in questi mesi ho lavorato per voi ebbene sì allora dunque cosa avete da raccontarmi raccontatemi tante tante cose perché voglio sapere assolutamente tutto io ho fatto il mese di agosto staccandomi come avete visto soprattutto da youtube e da instagram però nel mentre continuavo a registrare a creare contenuti a produrre contenuti per voi però ho pensato una cosa di nel periodo soprattutto di agosto non pubblicare video perché io in primis tendevo a non guardare tanti video su youtube a non stare molto sui social e quindi ho pensato che anche voi magari volevate staccare un attimo e poi ho pensato e secondo me non l'ho pensata male ditemelo voi dire tutti i pacchetti che mi sono arrivati delle novità delle promozioni delle collaborazioni di non farveli vedere i prodotti nuovi ad agosto perché tanto le ditte hanno chiuso cosa vi faccio vedere dei prodotti se poi non potete comprarli perché la ditte chiusa io non so voi non sono che mi fate ad averci capelli sciolti ma non so voi ma io quando compro qualcosa online voglio che mi arrivi in breve tempo comprarlo il 6 di agosto e vedo che ed è le consegne sono dal 26 in poi io non lo farei sinceramente quindi in questo mese vedrete ben due video a settimana perché io ho lavorato e ho pubblicato e ho prodotto per voi e quindi ho tante cosine da farvi vedere dei varie ditte che mi hanno mandato quindi devo farveli vedere e sono ovviamente tutti disponibili ancora si sono io che muovo il speciale quindi ora sto ferma sono ovviamente tutte disponibili ancora perché sono ed edizioni ancora disponibile quindi non ci siamo persi niente mi muovo tenendo la mano così non faccio rumore e penso che sia più più comodo anche per voi credo fatemelo sapere e poi dopo intanto ad questo mese sicuramente vedete due video a settimana perché ho tanti video a ritrati prima che le collezioni non siano più disponibili perché per adesso ci sono tutte e ci saranno sicuramente per tutto il mese quindi tutto disponibile online e nei negozi ma vedrete e poi dopo mentre voi vedrete i miei video pensatemi tanto perché sarà il mese che io invece farò tante cose perché sarà ora che finalmente faccio legna perché l'autunno è vicino ed è lui lo vorrei accendere e non assolutamente legna quindi sarò in giro per boschi a fare legna speriamo speriamo nel tempo soprattutto se lo si prospetta un inverno molto freddo ed è poi dopo sarà il mese che finalmente forse mi deciderò ad sistemare completamente questa casa perché con mese di agosto il mese che tutti quanti sistemano casa tutti quanti fanno c'era un tale caldo che sinceramente non ne ho proprio avuto nessuna intenzione di fare niente fatemi sapere voi ma c'era troppo caldo per fare tutto quindi dovrò fare anche quello sicuramente quindi forse ed è creerò e pubblicherò meno video ma per il mese di settembre due settimane sicuri ma state sempre aggiornati e poi dopo altre domande che vi devo assolutamente fare stanno arrivando i calendari dell'avvento sì sì mi hanno già contattato diverse aziende per sapere dei calendari dell'avvento quindi cosa facciamo iniziamo iniziamo aspettiamo almeno ottobre fatemi sapere voi e altre domande corriere ovviamente e visto che ho perso completamente il filo del discorso nel mentre vi faccio vedere questo pacco che mi è appena arrivata da Douglas ed è che così lo guardiamo assieme poi dopo cominciamo il discorso però ho solo tolto i dati personali ovviamente non è molto pesante quindi ho pensato di fare abbastanza presto 3 cosine ci piace a proposito di ci saranno tantissimi video spacchettamento questo mese perché davvero ne ho ne ho spacchettati tanti sono tutti i prodotti che testerò ed vi dirò dall'accensione ecco cosa vi volevo chiedere prima di farvi vedere che cosa è arrivato dunque quando avete visto che prima di fare lo stop iniziamo a pubblicare un video a settimana e le pubblicavo a lunedì ma vi andava bene come giorno sennò scegliamo insieme un giorno che quando ne pubblico uno lo pubblico a quel giorno e basta se sono due lunedì e giovedì o lunedì e mercoledì adesso vedo ed è se è solo uno fatemi sapere voi che cosa preferite inizio settimana, metà settimana, un orario preferito fatemi sapere voi ma tanto comunque andate a guardarli ed è finché mi ricordo altra cosa finché mi ricordo secondo voi mi sono dimenticata di voi e dei vostri premietti assolutamente no è vero giugno luglio e agosto perché non ho pubblicato video non ho estratto il commentino il solito commentino vi ricordo un commento sotto tutti i video alcune volte al mese estrae un commentino per ricevere un premietto inviato da me tra le cose che mi inviano le aziende quindi ed è però in questi mesi non li ho estratto perché e poi dopo non sapevo con le spedizioni se voi eravate a casa ed è non volevo creare il casino quindi andrò a ripescare i commenti sotto i video non dei commenti nuovi i commenti che avete lasciato a giugno e a luglio in un video di giugno e in un video di luglio e un premietto sicuramente ve lo mando assieme a quello di settembre quindi non mi sono assolutamente dimenticata di voi ma secondo voi io vi dimentico ma assolutamente no e io non ce la faccio più con questi capelli sono abituata a tenere i legati ho fatto l'estate legata e non so più come tenerli e a proposito di capelli ho visto che Douglas mi ha mandato questa linea della fito fito gioba capelli secchi oh si ci serve shampoo e maschera idratante con latte di jojoba ed estratto di malva mmm andiamo a vedere cosa dice per capelli secchi shampoo per capelli secchi quindi sarà ristrutturante questo è lo shampoo sono curiosa che buono il profumo che buono il profumo ci piace e questa è la maschera sempre della stessa linea ok cosa dice intanto andiamo ad aprirla perché ecco apprezzo tantissimo il fatto che le istruzioni siano all'interno e non con un foglietto a parte anche se adesso dovrò capire quindi questa è la maschera per capelli secchi e al momento ci serve assai ma l'italiano mai lasciare agire allora per un'applicazione rapida lasciare agire 1-2 minuti e risciacquare per un trattamento intensivo lasciare agire 5-7 minuti in base allo spessore dei capelli ok allora vediamo anche questa stessa il profumo dello shampoo ok che abbiamo detto che è con olio di jojoba ok ma anche questo jojoba no questo il shampoo è al latte di jojoba mentre la maschera è all'olio di jojoba tutta linea jojoba ok e la andiamo a provare sicuramente altra cosa che voglio capire è se questa lampada qui mi piace perché è molto carina ma fa un effetto strano dalla fotocamera meglio? meglio ancora? che dite? fa un riflesso poi si spegne così lasciamo la fare e vediamo che cosa fa e noi andiamo avanti invece con le cose perché ho visto questo Medlash Black Mascara de The Balm mi piace sempre provare i prodotti The Balm perché secondo me hanno un'ottima qualità ad un prezzo onesto non è un prezzo basso è un prezzo onesto non super super alt tanto sto guardando la lampada che cosa fa? non lo so ma neanche troppo basso allora questo è il mascara allungante io scusate ma io adoro queste immagini lei lampeggia anche perfetto va bene andiamo a vedere andiamo a vedere l'applicatore interessante per un mascara allungante voi forse non lo vedete o forse sì ma c'è una mosca che sta girando per casa io mi avevo promessa di fare questo video senza interruzioni senza intoppi bene non so cosa sta facendo la lampada c'è una mosca che gira è arrivato il corriere e infatti sto spacchettando pacchi che non erano in previsione tutto bene per questo video i capelli continuo a toccarli perché non sono più abituata ad averli sciolti mi sembra un video perfetto per iniziare direi che ehi siamo tornati e niente io spero che state passando e avete passato delle buone ferie ed spero che tornerete a seguirmi fatemi sapere se volete anche dei contenuti nuovi se ci può essere qualcosa che divide vi interessa ultimamente soprattutto nel periodo estivo ho fatto tanti video spacchettamenti perché le aziende mi mandavano tanti prodotti e volevo iniziare a provarli testarli con voi quindi ci saranno soprattutto quelli ma spero di fare attenzioni molto alla veloce intanto io vado a richiappare quella mosca perché non ne posso più vederla girare davanti alle luci e vi do appuntamento al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao